Buongiorno a tutti io sono Maurizio di Italinium e vi do il benvenuto sul nostro canale. Oggi parleremo di certificazioni ignifugue concentrandoci principalmente sulle normative europee. Ora in alcuni settori specifici come locali pubblici ospedali o ambienti fieristici c'è la necessità di avere dei prodotti che siano resistenti al fuoco. Ora quando il legislatore chiaramente è andato a definire dei valori di resistenza al fuoco ha dovuto tenere in considerazione principalmente una serie di elementi che sono quelli che possono garantire alle persone fondamentalmente che si trovano in una situazione di ambiente colpito da incendio di mettersi in salvo nel minor tempo possibile e nel modo più sicuro possibile. Quindi non è sufficiente avere un pannello che bruci nei tempi più lunghi possibile ma bisogna tenere in considerazione anche altro. Nella fattispecie i parametri da considerare sono tre. I tempi più lunghi per la combustione come abbiamo appena detto che devono essere comunque accompagnati da una minor emissione possibile di fumi. I fumi andrebbero chiaramente ad intralciare la fuga e quindi anche lì il valore deve essere il più basso possibile e un minor collassamento possibile del supporto. In Europa la classificazione viene definita dalla normativa europea EN13501-1 che sta a indicare la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Nella fattispecie la parte 1 indica la classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. L'euro classe è andata nel tempo ad armonizzare una serie di parametri nazionali che erano precedentemente validi per cui la Francia aveva la propria classificazione, i propri parametri, la Germania aveva i propri, l'Italia aveva i propri. L'entrata in vigore di un euro classe fa sì che i limiti vengano imposti a tutti quanti nello stesso modo. Quindi per poter immettere un pannello nel mercato europeo dovremmo avere dei parametri che rientrano nelle EN13501-1. Nella fattispecie la classificazione si suddivide in una classificazione principale e in una classificazione accessoria. La classificazione principale è relativa all'infiammabilità e va a definire una classe che va da A a F di infiammabilità appunto. A1, A2 sono i prodotti cosiddetti incombustibili, quindi vetro, metalli o quant'altro. B sono i prodotti combustibili ma non infiammabili. I valori C, D e E vanno a comprendere i prodotti che sono combustibili ma non facilmente infiammabili, tuttavia infiammabili. E i prodotti F che sono combustibili e facilmente infiammabili. La classificazione accessoria va a definire dei valori che vengono indicati in S1, S2 o S3, D0, D1 o D2. I valori S1, S2, S3, nella fattispecie come ci dice la lettera S, fanno riferimento a smoke, quindi fumo, e vanno ad indicare la produzione di fumo durante la combustione. Chiaramente più basso è il valore dell'S e minore sarà l'emissione di fumo. Per contro la D, dei valori D0, D1 o D2, sta ad indicare il dripping, e cioè il gocciolamento durante la combustione, quindi la presenza di percolati. I pannelli in legno che vengono definiti ignifughi vanno quindi indicati con la denominazione BS1, D0, che sta ad indicare dei prodotti che sono combustibili ma non infiammabili, dei prodotti che hanno S1 una minima emissione di fumi e D0, che è il valore più basso possibile di gocciolamento. È importante entrare così nel dettaglio dei valori considerati validi per il mercato europeo di resistenza al fuoco? Sì, perché in realtà bisogna tenere presente che mercati diversi dal nostro, come gli Stati Uniti, hanno dei valori diversi, quindi i pannelli che vengono considerati come resistenti al fuoco per il nostro mercato potrebbero non esserlo per altri mercati e quindi è giusto che dedichiamo del tempo a concentrarci per capire esattamente che cosa stanno a significare le sigle che accompagnano i pannelli che utilizziamo tutti i giorni. In un prossimo video parleremo delle certificazioni ignifughe per il mercato statunitense. Per il momento vi lasciamo, vi invitiamo a mettere un like se vi è piaciuto il video, a iscrivervi al canale di Italinium, a lasciarci nei commenti indicazioni, pareri o esperienze e quant'altro. Visitate il nostro sito per avere maggiori informazioni sull'argomento e ci vediamo nel prossimo video.